Devo ringraziare il Comune di Palermo, l'assessorato alla cultura, perché ha creduto in questo progetto dove parlo della metamorfosi di un fiore, dalla Rosa, Santa Rosalia, al Giglio, Padre Pino Puglisi. Infatti, giorno 12 canteremo davanti alle spoglie in Cattedrale di Santa Rosalia e giorno 15 alla Chiesa San Marco Evangelista allo Sperone in memoria di Padre Pino Puglisi, dove c'è anche una chicca, un grande maestro della pittura di murales, Igor Palminteri, Scalisi Palminteri, con Donuco di Marzo inaugurano il giorno del nostro concerto un grande murales che si chiama La metamorfosi di un fiore.